La mia idea di cucina è quella di una cucina moderna, una cucina comunque che ha grossissimo rispetto della tradizione e si accancia ad essa, quindi diciamo che la cucina moderna non potrebbe vivere senza la tradizionale, nello stesso tempo io penso che la tradizionale non possa essere impermeabile a tutte le culture che ci passano sotto gli occhi ogni giorno specialmente in un mondo così moderno determinato dal web. La mia idea di cucina vuole introdurre sapori, diciamo così, sapori accoppiamenti antichi attraverso l'utilizzo o anche grazie all'utilizzo di ingredienti che non sono propriamente locali come uno potrebbe pensare, ma nello stesso tempo mi piace invece azzardare ingredienti tradizionali con invece altri ingredienti che magari sono di approccio più moderno. Mi piace una cucina dinamica, mi piace cambiare i piatti, mi piace che il mio cliente quando venga al ristorante sia non solo riconosciuto ma nello stesso tempo abbia la possibilità di sperimentare nuovi piatti in volta. Se c'è un piatto che evoca particolari ricordi della mia infanzia, diciamo che innanzitutto tutto ciò che è cibo per me è legato ad un concetto flussiano di un ballena, quindi il cibo che ci piace di più non è perché quel particolare piatto è fatto meglio degli altri oppure perché magari ha delle caratteristiche particolari migliori rispetto ad altri, semplicemente quel piatto ha toccato le nostre colte e quindi in realtà ci evoca sensazioni, emozioni, memorie che sono molto diverse rispetto a quello che un piatto qualsiasi può fare. All'interno del mio menù per esempio potrei parlare dei ravioli liquidi di parmigiano 60 mesi perché uno dei miei formaggi preferiti, mia madre doveva nascondere sia quello con i buchi, come lo chiamavo io perché mangiavo tutto il parmigiano e il formaggio con i buchi nel frigorifero, però potrei anche per esempio parlare dell'agnello perché l'agnello mi ricorda in un certo senso le scampagnate fatte con la mia famiglia al tullo, con amici ultimissimi insomma dei miei genitori con cui giocavamo, insomma con i figli giocavamo, preparavamo l'agnello alla braccia eccetera, quindi anche questi sono diciamo memorie che sono ovviamente portate a galla dall'utilizzo di determinati ingredienti. Quanto è importante la materia prima soprattutto e anche riferimento ai produttori locali? Diciamo che questa è una domanda che viene da sé, la risposta non può che essere ovviamente la materia prima è molto importante, direi però di stare molto attenti, giusto perché i produttori locali non necessariamente vivono il meglio, ma quindi diciamo locale non è sinonimo di prodotto migliore in assoluto, bisogna conoscere il proprio produttore, bisogna conoscere diciamo come vengono coltivate, come vengono fatte determinate coltivazioni e quindi è importante soprattutto stabilire un rapporto di fiducia con il produttore stesso. Bisogna stare attenti anche a un'altra cosa, la cucina italiana purtroppo e per fortuna si basa tantissimo sulla materia prima perché effettivamente ci sono certi prodotti nostri che sono assolutamente non solo unici al mondo ma anche assolutamente eccezionali, però questo spesso e volentieri ci fa diciamo così di cadere in una cucina che è più di assemblaggio che non altro. in realtà bisognerebbe cercare di trovare un punto di mediazione tra il prodotto faboloso ma anche la tecnica da parte degli chef stessi, quindi quando troveremo quella giusta mediazione secondo me ci sarà veramente una grande base in avanti della cucina italiana. Per quanto riguarda il futuro della cucina, stiamo parlando chiaramente della cucina italiana, la mia è solo un'opinione e chiaramente non ho la sfera di cristallo per capire nulla o per determinare nulla. Io immagino che il futuro della cucina sia sempre più legato ad un'esperienza, cioè l'andare fuori a cena non deve essere soltanto uno sfamarsi perché per quello ci saranno i ristoranti o meglio le trattorie, le osterie che suppiranno praticamente alla cucina di casa e se non voglio cucinare vado a mangiare da qualche altra parte, per cui si tratta di cibo genuino, di cibo semplice e di cibo non troppo costoso. L'esperienza invece che si cerca sempre di più nei ristoranti di alta cucina è sempre più legata non soltanto al cibo ma anche all'esperienza in sé che può essere dallo show cooking dello chef o a uno show vero e proprio all'interno del ristorante all'utilizzo di, diciamo così, a spettacolarizzare, se vogliamo, proprio la cena in sé. L'accoppiamento di sapori secondo me non è tanto un accoppiamento di sapori quanto una tendenza, ovviamente il mondo asiatico e sudamericano stanno facendo sempre più sentire nella nostra cultura e quindi si virerà sempre di più verso, diciamo, quella tipologia di cibo, anche se poi in realtà quella che noi conosciamo è solo e soltanto la punta dell'iceberg di quella cucina, però secondo me sarà sempre più virata sull'asiatico e sul sudamericano.